...e l'attuale che incontra l'associazione Pizza Nuovi da Portania, presiduta da Sergio Necone. ...e l'attuale che incontra l'associazione Pizza Nuovi da Portania. ...e l'attuale che incontra l'associazione Pizza Nuovi da Portania. Vabbè, è stata una cosa importante perché come abbiamo detto all'inizio, da soli si va veloci, insieme si va lontano. Quindi tutti insieme abbiamo fatto questi due chilometri e il mondo parla di Napoli per una bella cosa, quindi siamo contentissimi. sentito